Terza classificata, autore Matteo Masciotti, il titolo di questa immagine è Quiete, Eremo di Santa Maria di Ciacobbe, struttura identitaria di riferimento è la 4FN2 di Colfiorito e legge la motivazione la professoressa Doretta Canosci. Questa foto esprime con maestria il senso del luogo racchiuso nella quiete ormai assoluta di una passata funzione ascetica e contemplatrice, la cui icona era visabile nelle orbite delle finestre ormai vuote. Complimenti.